Benvenuti in questo nuovo video, questo video è un po' speciale è un video per mostrarvi quello che ho fatto questo mese visto che sono stato un po' latitante dal canale, ho comunque caricato una decina di video, magari rispondevo due, tre, quattro giorni dopo ai vostri commenti, anche dalla pagina facebook sono stato completamente sparito per una o due settimane, dunque perché tutto questo, a parte il lavoro qualche progetto iniziato con altri ragazzi per dei video io sono andato a un concetto di Zelda e vi lo mostrerò un qualcosina e poi qualche altro progetto di divertimento che vi farò vedere qualche news in questo nuovo video beh, partiamo subito il concetto di Zelda era l'Arcimboldi di Milano, c'erano cosplayers fatti molto molto bene c'era addirittura una ragazza col cosplay del Link, sì, uno del prossimo gioco uscirà l'anno prossimo, c'erano molti youtubers, tra cui Sirena Macialatte, che faceva anche parte del coro dell'orchestra, ricordiamo che quel poco di giapponesi che so, lo devo a lei il concerto è stato da pelle d'oca iniziamo 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 movie su Harry Potter. Non posso mettervi immagini del film e del mini video, ma posso mettervi degli extra che abbiamo fatto cazzeggiando, ma comunque è divertente. Partiamo! Scusa per Hogwarts a sinistra, grazie! Sei tu Harry? Hai stato un buon amico Harry? Anche tu, ma cos'hai? Non è così grave? No Harry, sono spacciato Harry! Ma è una storta! Sto per morire Harry! È una storta! Mi sono caduto, è giampato! Non ce la farò mai, vedo la luce Harry! E' il flech, cazzo! Vedo la luce Harry! Ronda, hai dei rimpianti nella tua vita? Rowling, sta bravo! Ho sposato il mio! Devo dirti! Però Harry, se devo dirti... Due botte all'una le avrei date, Harry... Hermione, cazzo! No! Crucio! No! Per la prima volta in vita mia, mi hanno portato a giocare a Softair. Un'esperienza bella, faticosa, non pensavo così faticosa, ma molto molto bella. La rifarò volentieri e vediamo come andate. ... Questa è una stessa... Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 per questo mese veramente 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 tutto non i video che caricherò perché ce ne saranno altri oltre a questo però quello che ho fatto e spero di poter fare il video collezione che voglio farlo anch'io come voi volete vedere voglio farlo dunque nel senso si suona dietro e verrà una cosa tanto tanto tempo devo solo decidere se fare come ho detto un video unico ma verrà tre ore e passa oppure spezzettavo ditemi anche voi cosa ne pensate e niente al prossimo video iscriviti al canale alla prossima iscriviti alla pagina facebook perfetto